eccoci buongiorno buon pomeriggio ci siamo siamo tornati il martedì ricominciamo con i nostri video live aspettiamo che vi arrivi la notifica ciao nadia buon pomeriggio come state avete passato bene questo weekend avete creato ciao cosa avete fatto di bello avete creato qualcosa noi siamo molto curiose di vedere i vostri progetti ciao irene buonasera infatti la eli una settimana fa ciao daniela buon pomeriggio aveva postato sul gruppo un post con la targhetta che aveva fatto per la porta per la sua porta di casa con con il suo cognome e quello di suo marito oggi facciamo un po sulla scia di quel progetto un'altra targhetta sempre per la porta e scatoline porta te bellissime hai visto il nostro live di qualche di qualche giorno fa e postatele poi sul gruppo se se vi va così anche gli altri possono possono vederle per bene l'idea di oggi appunto quella siccome noi abbiamo già sulla porta di casa una una targhetta di quelle noiose che che si mettono sulle porte volevo creare una targhetta da mettere sulla porta del mio laboratorio quindi ciao francesca benvenuta volevo creare appunto una targhetta con scritto laboratorio al posto dei due cognomi e comunque può essere un'idea quella di creare una targhetta sì per la porta ma non per forza per la porta d'ingresso ma anche per la stanza di un bimbo piuttosto che il laboratorio piuttosto che il bagno la cucina insomma quello che poi la fantasia ci ci suggerisce un sacco di cose magari a cui io non riesco a pensare la vostra invece arriva arriva più in là ah ok ok e niente quindi appunto useremo questi fiori e siccome spesse volte ci chiedete se si può colorare con con gli oxide li coloreremo appunto con con i distress oxide la colorazione è un pochino diversa ma non è vero che non si può fare quindi vi faccio vedere anche un po la differenza di risultato rispetto per esempio a qualche giorno fa abbiamo colorato con i distressing e se andate a vedere quell'effetto rispetto a quello sono molto diversi ciao lorena buon pomeriggio anche a te quindi abbiamo bisogno di un alfabeto il mio è il funny alphabet di moda scrap che è molto comodo specialmente per chi non è proprio ordinatissimo come me perché rimane su un'unica placchetta quindi non rischio di perdere le letterine e io mi trovo più comoda a c'è ogni tanto nel fustello un pochino me le mette in una scatolina questa qui era di tiger penso in modo che quando poi ho bisogno vado a pescare tutte le mie letterine e faccio anche in fretta se magari devo fare un progetto all'ultimo minuto le ho già pronte quindi usiamo le lettere per scrivere quello che vogliamo come base oggi usiamo un cartoncino craft con l'ondulina vedete in mezzo che è tipo i cartoni che costituiscono le come si chiamano gli scatoloni le scatole dove dove si spediscono i pacchi ma è venduto nel formato 33 12 per 12 quindi 30 e mezzo per 30 e mezzo e vediamo come renderlo un pochino più interessante anzi adesso devo andare a prendermi un fluffy che mi sono dimenticata c'è sempre qualcosa che mi dimentico e poi usiamo appunto i fiori che mi sono già fustellata con la carta acquarellabile perché siccome appunto useremo gli oxide abbiamo bisogno dell'acqua per poterli sciogliere e quindi abbiamo bisogno di una carta che sopporti quest'acqua quanto sono allora le lettere adesso te lo dico nadia mi sembra che siano alte due centimetri e mezzo no sono alte due centimetri e sono larghe uno e mezzo ciao ciao fede aspettate che prendo il mio fluffy e ci sono ok quindi iniziamo allora per prima cosa andiamo a colorare i fiori e a fare le nostre goccine sul cartoncino perché così nel frattempo che sistemiamo il resto abbiamo il tempo di asciugatura se mai andiamo a dargli un asciugatina con l'embosser quindi mi sistemo questi e adesso spero che allora qui un po' di acqua un po' sporca cerco di metterli qua in modo che li vediate ho scelto questi colori questo qua poi in realtà non l'ho usato per i fiori quindi me li metto qui sulla mia base di vetro i pezzi che costituiscono il fiore sono tre quindi abbiamo bisogno di tre colori che stiano bene insieme che siano non troppo vicini tra di loro ma nemmeno troppo lontani cioè che facciano troppo contrasto una cosa utile per creare questo effetto quindi che siano un pochino vicini ma che scusate che siano un po' diversi tra di loro ma che si amino anche è di miscelarli uno con l'altro quindi iniziamo a prendere questa è la base quindi la usiamo pura così com'è sciogliamo un pochino di colore con l'acqua e vedete già penso che che l'effetto è biancastro rispetto a qua si vede questa è una delle caratteristiche degli oxide siccome hanno pigmento puro al loro interno rilasciano questa specie di patina biancastra quando sono bagnati quindi la colorazione è super facile chiaramente perché non abbiamo contorni non abbiamo ombre non abbiamo niente vado a colorare tutto il fiore e se voglio ripasso per esempio il centro per renderlo un pochino più scuro ok come avete visto questo fiore l'ho colorato con la carta asciutta se voglio aiutarmi un pochino questo adesso lo lasciamo lì ad asciugare se voglio aiutarmi un pochino prendo uno spruzzino con dell'acqua pulita e vado a spruzzarla sul mio fiore scuoto via un pochino l'eccesso se non si fanno le puzzette vado a prendere il mio colore e vedete che lui già quando lo metto sulla carta inizia a muoversi perché la carta bagnata aiuta la sfumatura quindi passiamo sempre dal centro e sfumiamo verso i lati verso i petali che dovrebbero essere più o meno quelli più chiari e lo stesso procedimento facciamo per tutti i pezzi quindi cambia il colore ma non il modo in cui lo facciamo adesso puliamo qua un secondo prendiamo il secondo pezzo che è fatto così lavoro per colori quindi sto prendendo i pezzi in base a quando cambio il colore con questo arancione peschino abbiamo finito quindi prendiamo il secondo colore e andiamo a mischiarlo un pochino con quello prima se voglio spruzzo sto attenta che non ci siano pozzette di acqua e vado a sfumare ciao Anna benvenuta ok sfumiamo tutto rimetto un po' di colore se voglio scurirlo ok riprendo sempre questo colore mischiato ciao ciao a tutte quelle che stanno arrivando e sfumo riprendo un pochino di colore e vado a sfumare il fatto che io abbia sotto l'acqua mi permette di sfumare davvero molto facilmente rispetto alla carta asciutta quindi se magari non vi sentite proprio molto sicure con la sfumatura vi consiglio sempre di partire dalla carta bagnata ora andiamo a prendere il terzo pezzo dei nostri fiori e prima abbiamo mischiato questo al colore che abbiamo usato come base adesso mischieremo questo con una punta del colore che abbiamo usato adesso quindi lo bagno vedete che anche l'acqua è biancastra che è l'effetto appunto che danno poi una volta asciutti vado a prenderne un pochino di quello sopra spruzziamo i nostri pezzi ok e andiamo non so se riuscite a vedere che quando il colore viene messo sulla carta bagnata inizia già a muoversi adesso vediamo se riesco a farvelo vedere avvicinare magari se faccio un po' di zoom però potrebbe essere una buona idea e vado a finire il mio terzo strato questo è quello che dovrebbe essere un pochino più scuro degli altri quindi magari abbondiamo con la sfumatura ripassiamo anche un pochino qui ok e i fiori li abbiamo finiti aspettate che pulisco i colori e passiamo alle foglie ok ciao ciao marisa si sono sara oggi sono Sara lei li tornerà uno di questi giorni ma oggi quando vedete la base scura mi sa che lei non sta usando la sua base scura ci sono io adesso facciamo velocemente i due centri anche loro sono due pezzi quindi siccome questo qui che ha un residuo di fustellata va sopra questo pezzettino qui vado a farlo un pochino più scuro prendo adesso ho perso i colori un po' di questo e un po' di questo come vedete sullo scuro riuscite a vedere il colore che posiziono mentre se avessi messo qui del link dei distress ink non lo avreste visto lo vedevate sul bianco ma non sullo scuro che è la stessa proprietà che hanno gli oxide anche rispetto ai cartoncini quindi se utilizzo un cartoncino scuro l'oxide si vedrà ancora link no e prendo anche una punta di questo per fare un arancione sempre in tonalità perché lo mischio con il giallo quindi usiamo il giallo più chiaro sotto ok in questo caso il pezzo è piccolo quindi non sto neanche a bagnarlo ecco forse forse dovevo stare un po' più in su ok mi vedete? sì sembra che ho coperto quella parte dai commenti ma mi sembra che si veda ok il giallo più chiaro l'abbiamo fatto passiamo al giallo più scuro quindi mischiamo un pochino del giallo più scuro a questo salmone per fare un arancione ok anche il centro è finito questo tipo di colorazione chiaramente è super veloce è anche è anche bello perché non bisogna pensare sapete che la colorazione mi piace un sacco però in questo caso non bisogna pensare proprio a niente se non a stendere il colore quindi super rilassante ok vado a pulire i miei colori diamo un asciugatina veloce e passiamo alle foglie anche le foglie sono composte di tre pezzi quindi devo fare in modo di avere tre colori più o meno diversi che vadano a scalare quindi mi sono perso un pezzo figurati Marisa guarda dopo rimane registrato comunque stiamo facendo un'etichetta in questo caso per la porta del mio laboratorio ma quella che ci aveva fatto vedere la Eli sul gruppo era quella che lei aveva creato per la porta di casa con il suo cognome e quello di suo marito quindi in quel caso c'erano appunto i due cognomi nel mio caso scriverò laboratorio questa è un'idea anche per chi non volesse fare quella da mettere fuori dalla porta di casa per farla per la porta di una stanza del bagno della cucina di una camera di una stanza di un bimbo di una stanza dei giochi insomma quello che che uno che uno vuole aspettate che mi manca il marrone ok ero convinta di avercelo sul tavolo invece no prendo il mio verde più chiaro e lo uso diciamo puro qui se voglio posso andare un po' a spruzzare ok lo vado a stendere concentro il colore più o meno alla base e poi cerco di fare le punte un pochino più chiare in modo che ci sia anche un po' di movimento nel colore che non è necessario assolutamente perché come dicevo prima non è una figura che ha bisogno di dei volumi per essere diciamo vista bene per risultare armoniosa ci pensiamo già con i diversi colori a creare un pochino di dimensione a me piacciono tanto le sfumature quindi tendo a farle anche su dei pezzi così però per esempio questa fustella si presta bene anche ad essere tagliata dal cartoncino dal basil dal cartoncino normale quindi in quel caso non avrebbe dei volumi ok questa è la seconda parte e vado a mischiare il colore più scuro con una punta di quello più chiaro se voglio spruzzo ma in realtà è piccolino quindi possiamo anche andare comunque se avessi voluto avrei potuto spruzzare anche qui un po' attento perché qui c'è un ramo un po' sottilino ok è un po' troppo chiaro perché ho guardato quelli adesso vediamo quelli che avevo fatto che si sono asciugati mettendolo sopra è un po' simile quindi cerco di scurirlo ancora un pochino sempre con il colore più scuro ok il pennello magari vi aiutate usandone uno un po' grande perché uno piccolino non vi permette di sfumare quanto volete perché siccome tiene poca acqua va a finire che ora che avete finito di sfumare tutto avete creato delle macchie perché la prima parte di colore che siete andati a mettere si è già asciugata quindi se usate un pennello un pochino più grande siccome appunto qui non abbiamo contorni da rispettare né cose su cui stare un po' attenti vi aiuta il lavoro vi semplifica il lavoro ok mettiamo qui ad asciugare aspettate che riprendo ancora un pochino di colore così così lo scurisco un pochino di più la carta è quella sì sì Marisa questa qui è carta acquarellabile della Florence che appunto è fatta apposta per gli acquarelli quindi in realtà tutte le volte che usiamo l'acqua questa carta va bene perché le carte normali chiaramente non sono state concepite per lavorare con l'acqua quindi iniziano ad imbarcarsi a rompersi a fare i pallini poi dipende dalla carta mentre invece quella d'acquarello generalmente hanno dentro una percentuale di cellulosa nei casi di queste carte più commerciali nei casi delle carte più professionali diciamo che però costano anche tantissimo e per queste cose sono sprecate hanno dentro proprio del vero cotone che le rende molto più elastiche quindi adatte a sopportare l'acqua ok ok l'ultimo pezzettino adesso ho incollato ok e ci siamo sono fuori campo perfetto grazie Nadia ecco ho il telefono lì e non riesco a vabbè mi metto un po' più in su scusatemi non me ne sono accorta nel voler fare una roba mi sembrava furba avvicinandovi il avvicinando lo zoom eh Fabia ora io uso mi trovo bene con questi qui che sono della linea di Tommy Art dopo ve li ve li linko quando la sera dopo i video mettiamo un una specie di si chiama vetrina è un dei link diciamo ai prodotti in modo che possiate reperire facilmente quello che è stato usato e questi qui appunto sono i i i pennelli di di Tommy Art e sono pennelli a setole sintetiche esistono di diverse misure sono così e io mi si trovo molto bene mi sembra che durino tanto quindi cioè ce li ho da un po' di tempo e sono ancora praticamente perfetti ok questo è il mio ultimo strato quindi andiamo un attimo a pulire il colore se non ho più spazio e l'ultimo strato siccome non ho un verde più scuro di quello che ho usato utilizzo un po' di marrone per mettere i colori sulla sulla base di vetro o comunque la base che usate fate pressione al centro del tampone quindi un dito mettetelo sempre che non si vede forse un dito mettetelo sempre al centro e spremete girando un pochino il tampone perché è leggermente incavo e quindi se lo andate a mettere così si mette solo il colore che c'è sui bordi ma non quello che c'è sull'interno non so se mi sono spiegata bene prendo il mio marrone quindi e una punta del colore che ho usato prima quindi il verde scuro vediamo se riusciamo a metterlo qua sopra perché in effetti se lo metto qua sotto voi non lo vedete vado sempre a bagnarli e questa volta lo stendo proprio così come ce l'ho perché qui fare sfumature mi sembra un po' inutile ok uno perfetto grazie è importante un feedback perché a volte magari uno pensa più dire delle cose che per sé sono chiare ma per gli altri no quindi è il caso di rifa ok nel frattempo i miei pezzi si stanno asciugando perché questo tipo come si dice questo tipo di colorazione comunque non ha tantissima acqua e tantissimo colore e quindi ci vuole veramente pochissimo perché si asciughino perfettamente guardate questi sono quelli che abbiamo fatto all'inizio e sono già adesso c'è la luce ma sono arancionini in realtà li vedete bianchi ok questi sono praticamente asciutti è importante che quando andate ad incollarli la carta sia asciutta sia perché poi andremo un pochino a modellarla e per quello abbiamo bisogno che appunto sia perfettamente asciutta ma anche perché la colla non tiene allo stesso modo sulla carta umida e quindi rischiate di incollare una cosa che poi in realtà poi vi si scolla ok ci manca solo un pezzettino e abbiamo finito io sono in campo sì più o meno ok adesso togliamo lo zoom così so bene dove riuscite a vedermi perché così è un po' difficile ok puliamo qui tutto tutto questo pastrocchio togliamo lo zoom ok scusate il mal di mare pennello si pulisce semplicemente con l'acqua perché i colori a base d'acqua non hanno bisogno di altro vado vado a pulire qui questo colore ok 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 quindi altra cosa che facciamo iniziamo a pensare a una misura per la nostra etichetta io pensavo di tagliarla più o meno qui quindi l'acqua non ci serve si ci serve dopo ma adesso iniziamo a tagliare l'etichetta tagliare l'etichetta facciamo a questo è 30 appunto quindi possiamo farla a 20 adesso farò volare tutti i pezzi questo cartoncino è un po' spesso però riusciamo a dargli un primo invito diciamo un primo segno con la taglierina e poi se non siamo riusciti a tagliarlo per bene ci passiamo anche con le forbici ok vedete che inizia qui a piegarsi ripasso il taglio anche sull'altro lato ok e questo si è praticamente tagliato volevo anche leggermente accorciarla per fare un pochino più lunga e stretta quindi questa misura quasi 17 facciamola 15 non buttate questi pezzetti perché vi sono utili se magari dovete fare qualche decorazione adesso vi dico anche come un effetto carino che avevo visto fare con un cartoncino simile e che se qualcuno è mai venuto in negozio si è visto il nostro cartello di torno subito abbiamo usato questo cartoncino qui per far la base quindi vado a prendere delle forbici appuntite o un punteruolo quello che avete e allora vado a vedere ho le ondine in verticale perché le opere di qui non so se si riescano a vedere quindi andranno per così sulla mia etichetta io vado a impuntare la forbice da una parte e a spellicolare un pochino per creare questo effetto rovinato il cartoncino che fa la copertura vedete che escono le ondine sotto è proprio come vi dicevo come i cartoncini che ci sono per fare le scatole dei pacchi per le spedizioni o gli scatoloni rovino un pochino per creare un pochino di di movimento in più sulla mia base una volta che ho iniziato il taglio metto dentro la punta delle forbici e mi si apre proprio molto facilmente ok facciamone uno di qua e uno di qua ciao ciao maria stiamo facendo un'etichetta per la porta nel mio caso per la porta del laboratorio e sui sulla falsariga dell'etichetta che lei li ha postato sul gruppo con il cognome suo e di suo marito e siccome poi ci ha invitato a postare le nostre io non ce l'avevo un'etichetta pronta quindi ho detto vabbè facciamola insieme così possiamo vedere anche qualche qualche idea per realizzarla e poi aspettiamo di vedere le vostre pubblicate se vi va e se vi va di replicare il progetto sei piena di pezzi di avanzi hai ragione si ovviene un po' tutti mi sa però in alcuni casi possono tornarci utili ecco magari non qualsiasi pezzetto però i pezzetti che hanno una misura magari piccola però che ci può che ci può servire per fare un banner per fare per fustellare delle lettere per esempio meglio sempre tenerseli un pochino da parte se no tutte le volte dobbiamo iniziare un foglio nuovo e poi con i pezzettini vi dico riusciamo a anche a fare nuovi abbinamenti perché magari vediamo le carte sempre come le troviamo o come le compriamo quindi come le abbiamo pensate quando eravamo nel negozio a comprarle però poi averle lì vicine magari due carte che non avremmo mai pensato di mettere insieme troviamo anche dei nuovi abbinamenti quindi sono utili non riempiamoci la casa ma nemmeno buttiamo tutto ecco non voglio che poi mi tacciate di di accumulo ossessivo ok va bene mi fermo così ok adesso volevo fare delle goccine con il fluffy quindi vado a prendere il fluffy in questo caso è il colore sunshine il fluffy è questa pasta che ha dentro dei micro glitter e siccome è a base d'acqua possiamo diluirla con l'acqua quindi vado a prendermene un pochino magari se prendevo una spatolina facevo meglio ma vabbè ok 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 me lo sono messo qui lo vedete sì vado a prendere un pochino di acqua posso anche usare il mio spruzzino così faccio prima e inizio a scioglierlo con questo possiamo fare delle pennellate delle gocce un sacco di effetti anche se poi lei principalmente come pasta nasce per essere usata con la spatola per esempio questo colore è il mio preferito mi piace un sacco questo giallo poi mi sembrava ci stesse bene anche con tutti i fiori che abbiamo creato quindi ok adesso che l'ho diluito più o meno a questo livello prendo il mio pennello e vado a picchiettare in modo da creare queste goccioline che poi una volta asciutte saranno sbirlucicose ne faccio finché io poi con le goccioline non mi so molto regolare quindi adesso se volete delle goccioline piccole scegliete un pennello più piccolo se volete delle goccioline più grandi chiaramente ci servono più setole quindi un pennello più grande ok facciamo che va bene così prendiamo una salvietta e ok salviette si usano in quantità industriale ok do un'asciugatina e andiamo a comporre i nostri fiori come vi avevo fatto vedere qualche tempo fa possiamo modellare i fiori con l'aiuto di una spugnetta da pulizie e un bulino che è questo attrezzo che ha la punta rotonda come posso fare prendo il mio fiore e vado semplicemente a aspetta lo facciamo da dietro a lavorarlo in maniera circolare con il mio burino per dargli questo effetto più tridimensionale posso fare la stessa cosa con i pezzi quindi andare magari tirare su le punte e la parte in mezzo lasciarla più bombata e con l'ultimo pezzo anche quindi il nostro fiore si comporrà in questo modo il primo pezzo il secondo e il terzo vedete che i colori sono abbastanza vicini ma non troppo se no non riusciremmo a capire avremmo fatto una fatica inutile nel colorarli tutti e tre diversamente vado velocemente a ripetere tutti i procedimenti con gli altri fiori e poi andiamo ad incollarli nel frattempo le nostre le nostre goccine di fluffy si asciugano perché ci vuole circa dieci minuti un quarto d'ora per per asciugare normalmente in questo caso siccome ne abbiamo veramente poco perché le goccine tengono pochissimo colore in cinque minuti abbiamo abbiamo già il fluffy asciutto una cosa che potete fare non so se se l'avete già sentito magari non avete mai usato i fluffy e quindi non lo sapete i fluffy una volta asciutti possono essere passati con un panno tipo uno straccetto un asciugamano vecchio qualcosa in modo che venga leggermente grattata la parte superficiale in questo modo andremo a rivelare i glitter che stanno sotto la parte superficiale quindi ne vedremo di più anche se provate a stenderla con la spatola usando uno stencil magari quando andate a tirare via lo stencil lo lasciate asciugare quindi lo strato di pasta è più spesso rispetto alle goccine che abbiamo fatto in quel caso lo vedrete ancora di più perché chiaramente avendo più colore noterete glitter di più rispetto a queste goccine che abbiamo fatto oggi ok questo ci mancano questi qui e abbiamo finito ok il dietro non ci interessa chiaramente sia un po' macchiato perché andando a spruzzare l'acqua sulla parte superiore in realtà si creano un po' delle goccine che poi passano anche sulla parte inferiore dai bordi e non attraverso la carta perché appunto la carta resiste all'acqua ok e ok se vogliamo possiamo fare la stessa cosa con le foglie ma adesso vediamo se ci piace o no l'effetto nel frattempo andiamo a incollare loro quindi prendiamo mettiamo un puntino di colla a me non piace attaccare completamente i fiori mi piace che siano un pochino sollevati per dare un po' di movimento quindi metto un goccino di colla solo nel centro anche in questo caso non abbiamo grandi esigenze ma se ci piace rispettare il disegno possiamo andare a prendere esattamente il disegno della fustella della confezione per andare a posizionare i nostri petali come come si dovrebbe faccio lo stesso anche qui e passiamo al centro quindi questo come vedete i colori degli oxide sono molto più vividi rispetto a quelli degli ink e sono anche un pochino più irrealistici diciamo è difficile colorare per esempio un incarnato con gli oxide e questo è il primo fiore andiamo avanti più velocemente con gli altri due due tre e quattro continuiamo allo stesso modo non mi sto preoccupando di in che posizione sto mettendo i vari pezzi del fiore perché tanto mi sembra che sia bene un po' da tutte le parti non deve coincidere niente quindi sono tranquilla centro ho sbordato per fortuna la nuvo è trasparente ok abbiamo quasi finito i fiori e poi passiamo alle foglie che hanno sempre i nostri tre strati quindi una sarà la foglia di base la sfumatura di della parte superiore e diciamo il ramo così e così ci manca l'ultimo cosa stavo dicendo mi sono persa no volevo volevo dirvi che quando facciamo qualche qualche album o comunque qualche video che ha bisogno di misure siccome qualcuno ce l'ha chiesto ultimamente diciamo nell'ultima settimana circa abbiamo fatto le brave e abbiamo tradotto i nostri appunti presi a mano in dei file in pdf che trovate sul gruppo nella parte a sinistra c'è una parte che si chiama proprio file e in quella parte lì trovate tutti i file delle vecchie dirette delle misure e di quello che vi serve sapere per se volete realizzarli siate clementi perché non sono file da grafico però ecco possono esservi d'aiuto nel momento in cui vogliate realizzare quel progetto passiamo alle foglie vedete che comunque sono diversi ma si sposano bene è una cosa che possiamo fare molto facilmente per fare in modo che i colori si abbinino è mischiarli tra di loro quindi creare cioè mettere un pochino di quel colore che per esempio fa la nostra base nel colore che vogliamo andarci a mettere sopra ok ups qua la colla un po' sbordato e le ultime tre adesso andremo a comporre la nostra targhetta e i fiori dovremo vedere di arrangiarli io ne ho scelti cinque perché mi sembra che comunque i fiori in numero dispari a parte tutte le cose dietro al fatto di regalare i fiori in numeri dispari ma stiano meglio tra di loro in una composizione visivamente parlando quindi andremo a posizionarle magari in un gruppetto da tre in un gruppetto due in modo che il totale sia dispari e l'ultima foglia magari manca questo prima ok e voilà perfetto andiamo a riprendere la nostra targhetta che si è asciugata quindi le nostre goccine adesso possiamo andare a grattarle leggermente chiaramente delicatamente anche perché sono piccole prendiamo un pezzo dello straccio che sia asciutto quindi tipo qui e andiamo a passare sopra se usate un panno pulito vedrete un pochino di colore sul panno chiaramente perché stiamo andando a togliere la parte superficiale però poi quando andiamo a vederlo in controluce adesso qui viene il bello perché non so se si vedrà mai riusciremo a vedere più glitter io non so se li potete vedere però poi vediamo se nella foto riesco a farveli vedere un pochino di più quindi andiamo a prendere la nostra scritta che abbiamo detto con le nostre lettere tiro fuori dalla mia scatolina le lettere che compongono la parola laboratorio perché lo vorrei mettere allora la aspettate che si stanno incastrando tra abbiamo messo in ordine alfabetico ma se non mi ricordo l'ordine delle lettere non andiamo molto bene laboratorio e adesso vi faccio vedere una tecnica carina per riuscire a posizionarle tutte dritte e tutte più o meno equidistante c'è bisogno di una cosa a quadretti sotto quindi a me viene in aiuto la mia base altrimenti potete prendere anche un foglio vado a posizionarmele mettiamole qui però non le vedete bene vabbè mettiamole qui vediamo se riesco a metterle dritte che per me non sono molto vicine allora vedete che occupano due quadretti circa quindi vado a tenere la stessa distanza non so se riusciate a vedere le righe che ci sono sotto cerco di non muovere chiaramente quelle che ho già messo proseguo con tutte le lettere e se non sono sicura di averle messe proprio bene bene dritte con l'aiuto di un righello che che sia diciamo di quelli che quando appoggiate sul tavolo sono allo stesso piano del tavolo quindi che non abbiano delle come posso dire degli spessori non so come tipo un righello del genere può andare bene un righello tipo questo scusatevi tipo questo righello si ferma si tipo questo righello non va bene perché ha sotto il sughero sopra il metallo e tra i due c'è circa un paio di millimetri in questo modo se io vado a tirare le lettere in linea non ce la faccio con questo righello invece che è sempre dello stesso spessore vado sulla parte sotto e le tiro vedete che le ho tirate in linea che riesco a spostarle quindi sono sulla stessa linea mi separo molto lentamente e vado a prendere un pezzo di washi lo prendo lungo per tutte le parole e gli togliamo un pochino di colla mettendolo sulla mano sui vestiti su su dove su dove volete oppure mettete sopra un pochino di borotalco quando vi sembra che non sia più molto appiccicoso quindi che non ci rovini la nostra carta aspettate ancora un attimo ok tenendolo bello teso andiamo circa a metà delle lettere e le facciamo aderire al washi in questo modo abbiamo la scritta tutta unita e tutta alla stessa distanza sono sicura che è dritta quindi poi non sto a impazzire nel momento in cui vado ad attaccarla che una lettera è più alta dell'altra perché so già di averle messe tutte sulla stessa riga in questo caso andiamo a metterci la colla così non dobbiamo prendere in mano tutte le letterine ma le abbiamo già tutte fissate quindi è anche più facile mettergliela più velocemente la colla è sempre la nuvo che uso per qualsiasi cosa ok ok e voilà adesso riprendo la mia scritta che quindi sarà tutta bella insieme e la posizioniamo al centro della mia base mi assicuro che tutte le letture si siano attaccate bene bene e molto delicatamente cercando di fare un angolo vedete qua con il washi vado a rimuovere vedete è stato facile metterle sono tutte dritte sono tutte equidistanti in parte di qua e non abbiamo fatto qua c'è un po' troppa colla e non abbiamo fatto fatica a dover mettere una lettera per volta quindi andiamo a posizionare più o meno i nostri fiori come ci piacciono vediamo di metterne tre ci stanno qui tre così e due qui sopra tengo uno spazzetto per il buchino per poterci mettere un po' di spago quindi non vado proprio vicino all'angolo sulla parte superiore e ce lo mettiamo così ok iniziamo ad incollare anche qui incollo solo un pezzetto non serve incollare tutto sia perché così rimane un po' più tridimensionale il fiore e la foglia e sia perché avendo delle parti che sporgono comunque andrei a mettere la colla andrei a mettere la colla dappertutto vuol dire che una parte della colla rimane fuori ok e schiacciamo un attimo intanto che la colla fa presa volendo potrei anche mettere un pezzettino di biadesivo spessorato facciamo che questo qua lo spessoriamo anche se abbiamo già messo la colla ok io non vedo più commenti ma spero che sia tutto a posto prendiamo le pinzette e spellicoliamo ok così abbiamo un po' più di tridimensionalità la stessa cosa facciamo qui sotto quindi aggiungiamo prima le foglie questa di qua ah ok grazie Loredana perfetto ma sapete che siccome ogni tanto facebook fa qualche scherzo magari il fatto di non vedere più niente a volte fa pensare che che ci sia qualche problema anche se magari invece non state solo scrivendo perché è prese o perché vi state state facendo dell'altro da di religiosa contemplazione tardi che carta usi allora Marta questa carta qui sotto non mi ricordo benissimo il nome esatto ma poi ve la posto si chiama ondulina craft qualcosa del genere ed è una carta praticamente che è fatta come le carte degli scatoloni per dire è leggermente più sottile e chiaramente il foglio non è rovinato come potrebbe essere uno scatolone però sono andata a grattare delle parti per fare venire fuori l'ondulina che c'è sotto quindi tipo qui finisco di attaccare i miei fiori aggiungiamo lo spago e ci siamo ok anche per questo gli mettiamo un pezzettino di il nostro spessorato e voilà facciamo due buchini prendo la bucatrice per una bucatrice non troppo grossa che così non mi fa dei buconi giganti e facciamo un buchino e due buchini prendiamo un pezzetto di corda facciamo così aspettate che taglio bene qui c'era un po' smangiato lo andiamo ad inserire e gli facciamo un nudino uno potrei mettere un pochino di corda in più per fare il nodo ok uno e due nodino e anche per oggi abbiamo finito io spero come sempre che vi sia piaciuto il progetto che magari lo rifacciate rifacciate una targhetta e ce la postiate sul gruppo ecco qui la mia che andrà sulla porta del mio laboratorio grazie grazie mille grazie a tutte grazie a chi è stato qui tutto questo tempo stiamo un po' sforando però magari per realizzare un progetto ci vuole un pochino più tempo quindi speriamo che vi vada di stare insieme a noi lo stesso anche per un tempo un po' più lungo e niente io vi ricordo che se volete potete chiedere l'iscrizione al gruppo dove potete postare tutto quello che che realizzate io adesso andrò a postare la mia la mia etichetta la mia targhetta anzi e ci vediamo domani sempre alle 17 qui sulla pagina grazie mille ciao buona serata grazie mille